Quella dell'abbandono da parte di istituzioni ed enti di controllo sembra essere ormai una sensazione conosciuta da quei cittadini di Brindisi che abitano nella zona sciaglia e più precisamente nel punto in cui via Materdomini si intersega con via Torpediniere Centauro. Una parola che però in questa zona non è contemplata è rassegnazione, considerando le numerose e continue segnalazioni per i diversi riservizi fatti a sindaco, al settore ecologia del comune e alla polizia municipale inerenti questa strada. Pocchio quasi nulle le risposte, molti invece i disagi. Le segnalazioni a telebrindisi web tv ci hanno portato al civico 13 di via Centauro dove la strada incrocia un vicoletto, una stradina che anticipa appunto il cancello di entrata del civico 13 e accanto ad essa quello di entrata del civico 15. una rientranza dove l'azienda detta la raccolta dei rifiuti nella città di Brindisi ha sistemato i cassonetti per la raccolta differenziata. Premessa la nota faccenda del servizio di raccolta rifiuti urbani che è stato bloccato per le note vicende della discarica di Autigno, le lamentene dei residenti della zona sono più che fondate a partire dal geometra Brescia che è proprietario del civico 13 che di quella porzione di strada dove giacciono i cassonetti e addirittura il proprietario. Sì avete sentito bene, i cassonetti pubblici per la raccolta rifiuti sono su un suolo privato dove non dovrebbero essere e non dovrebbero mai essere stati posizionati. La posizione strategica fa della zona di raccolta rifiuti in via Centauro ma a questi si unisce anche il via vai di automobilisti che arrivano da fuori con la propria spazzatura e lasciano i rifiuti proprio in quel punto che per quanti abitano nelle vicinanze rappresenta una vera e propria discarica sotto casa dove poi ci si trova di tutto, dal cartone della pizza al copripoltrona tigrato, dalla tavoletta del water a vecchi indumenti. Purtroppo come segnalato tutta la strada è un pullulare di servizi alcuni dei quali già segnalati in un nostro servizio di ben due anni fa girato nell'agosto 2013 dove parlavamo proprio di via Centauro. Qui dove vacanzieri e turisti occupano alcune ville e appartamenti della zona esclusivamente nel periodo estivo e in casa non ci stanno praticamente mai, i residenti vivendoci tutto l'anno sono a contatto con problemi e situazioni più volte segnalate negli anni all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine ma a quanto detto ci rimaste sempre inascoltate. Laddove è evidente che l'inciviltà di qualche cittadino ha prodotto degrado e sporcizia sono altrettanto evidenti le mancanze delle istituzioni. Basti pensare alla totale assenza di luci e lampioni con la strada a doppio senso di circolazione con le auto barbaramente parcheggiate in divieto in passo carrabile in una via che di sera diventa pericolosa per chi la percorre a piedi o in bici e la sporadica quanto nulla presenza di mezzi delle forze dell'ordine impegnati in controllo di altre artierie cittadine. A distanza di due anni l'unico cambiamento registrato è l'eliminazione del doppio senso di circolazione. Ora la strada è a senso unico con accesso che anche per chi abita nelle vicinanze dell'intersezione con via Materdomini è costretto a circumnavigare tutta la ciaia per imboccare la strada dalla parte opposta. Luci e lampioni per la strada continuano ad essere inesistenti e quindi lasciano al buio per tutta la sera e l'intera notte la via. Il parcheggio nelle zone vietate è ancora un vizio diffuso e la latitanza dei mezzi delle forze dell'ordine invariata. In quanto a proprietà abbandonate e pericolosamente innegrato questo è quello che documentavamo due anni fa. Più avanti addentrandosi sulla via ci si imbatte in una zona recintata da una cancellata che doveva essere destinata ad un residence nel quale è rimasto solo la recinzione in ferro del tutto fatiscente e in alcuni punti rovinata. All'interno regna sovrano un canneto e vegetazione spontanea che farebbero invidia anche alla foresta amazzonica. Insomma un vero e proprio sfacelo. Oggi oltre ad aver ritrovato la zona documentata sempre più rigogliosa ne abbiamo trovata anche un'altra esattamente di fronte alla stessa. Con la differenza che quest'ultima una volta non molto tempo fa è stata abitata ma chi ha ereditato l'area dopo la dipartita dei proprietari l'ha abbandonata a se stessa. Abbandonata sì, come la sensazione che per chi abita in via Centauro sembra purtroppo diventare ogni giorno una realtà fin troppo evidente.